La Wilka si è riunita con Massimo i vertici dell'organizzazione per delineare tramite il proselitismo le politiche attrautive per la Wilka del futuro. Un sindacato che guarda avanti pronto a cogliere le sfide del futuro. Ne parliamo con il segretario generale Massimo Masi. Quali sono gli accordi positivi raggiunti e cosa si può ancora migliorare? Noi gli accordi positivi ne abbiamo fatti uno che è storico ed epocale e credo che quello sulle pressioni commerciali, come abbiamo scritto in un articolo, sia veramente storico, importante, ma non soltanto per la nostra categoria ma anche per il sistema esterno, per i lavoratori, per quanto riguarda i cittadini, per quanto riguarda i consumatori delle banche. Quindi si è dato maggiore tranquillità, maggiore trasparenza. Ma questo non basta. Noi oggi cominceremo anche qui una nuova iniziativa sull'educazione finanziaria perché siamo consi che bisogna informare e formare i cittadini e dargli le caratteristiche principali di quello che vanno a fare in banca. Quindi credo che questi siano gli aspetti principali della nostra vicenda. Ma poi bisogna raffrontare altri problemi, cioè quelli della struttura del sindacato. Oggi il sindacato così composto credo che abbia dei grossi limiti. Bisogna arrivare a una maggiore partecipazione dei lavoratori nella scelta e nella vita del sindacato, soprattutto nei confronti dei giorni e su questo la WIC si sta attrezzando e su questo lavoreremo nel futuro affinché ci sia, assieme al rinnovamento, al cambiamento e all'inserimento di sempre più giovani e più donne all'interno del sindacato, ma che ci sia anche la presenza, la costanza di affrontare quotidianamente i problemi di non essere soltanto al tavolo sindacale, ma che i lavoratori si rendano conto che il processo oggi interessa a tutti e non interessa soltanto il vertice. Parliamo della Lombardia, la regione più importante sia in termini di addetti che di iscritti. E ne parliamo con il segretario generale regionale Patrizio Ferrari, al quale chiediamo in questa regione, che ovviamente essendo la più grande sconta sia le uscite che le entrate più cospicue. Come si regolerà la WIC per intercettare e tutelare i dipendenti più giovani che saranno quelli più colpiti dal cambiamento? Sì, necessita una premessa. Il territorio Lombardo è probabilmente l'osservatorio migliore su quale ottenere la visione più complessiva all'interno della nostra organizzazione. È inevitabile quindi che ci siano situazioni aziendali molto diversificate, dalla fusione col Banco Popolare BPM, al gruppo Intesa San Paolo con accordi di situazioni aziendali molto diversificate e con buoni propositi di occupazione. Passando poi alle situazioni più delicate come Unicredit, Montepaschi, Vicenze e Cadice. Al gruppo UBIC ha acquistato tre delle quattro banche fallite per poi passare alle BCC, alle assicurazioni e Equitalia. Quindi è un osservatorio molto privilegiato. Gli impatti e problemi comunque sono comuni a tutte le realtà. Fondo emergenziale, fondo dell'occupazione e quindi una maggiore attenzione sul territorio. In questo senso abbiamo quindi un sistema che vede sempre di più ricorso fondo a fondo esuberi. La nostra attenzione va quindi portata verso le nuove assunzioni. Una nota parzialmente positiva, come dicevo prima, era quella rispetto a Intesa San Paolo che fa accordi di prospettiva, quindi di nuove assunzioni. Noi come UBIC a Lombardia stiamo facendo dei grandi sforzi organizzativi per andare verso i giovani. Quindi un sindacato che sappia intercettare le nuove assunzioni e saper rispondere alle loro domande. Quindi parlare un po' la loro lingua, la lingua dei giovani. Penso che sia un modo un po' nuovo, ma nel mondo del cambiamento della UIL e della UILCA noi stiamo portando avanti un certo tipo di ragionamento per puntare proprio verso i giovani. Dobbiamo puntare un sindacato più leggero, meno burocratico, più social. Quindi trovare tutte quelle risposte che oggi il giovane ci chiede. In regione abbiamo un cantiere aperto sui giovani. Con l'aiuto della Secretaria Nazionale e del gruppo che si occupa del proselitismo cerchiamo di avvicinarci ai giovani. Ci stiamo lavorando da tempo e abbiamo un progetto molto importante sul progetto dei giovani. Siamo fiduciosi, quindi impegneremo tante risorse e tanta formazione perché questo progetto possa avere un buon risultato e quindi che riesca. Crediamo che questo sia uno, sicuramente non il migliore, ma uno dei migliori modi per poterci avvicinare alle nuove generazioni. Siamo con il segretario generale regionale dell'Emilia Romagna, Adriano Cosentino. Che ruolo la Wilk adotterà verso la gestione di due banche che hanno la sede generale in questo territorio, Biper e Cari Ferrara? Sono due importantissime realtà, molto diverse tra loro, che auspichiamo vadano quanto prima al closing per l'aggregazione. Cari Ferrara ha passato momenti molto difficili, i colleghi di quell'azienda hanno pagato un prezzo altissimo, la metà sono andati via lasciando il lavoro, sebbene con robusti ammortizzatori sociali. Ora auspichiamo che quanto prima si chiuda questa operazione. Del resto bisogna riconoscere a Biper che al di là del sicuro interesse a creare valore per i soci che la spinge a fare questa operazione, c'è anche una componente sociale nella scelta di andare a fondersi o integrare nel gruppo Cari Ferrara. Una cosa è certa però, dobbiamo stare molto attenti perché i lavoratori di Cari Ferrara hanno già come detto pagato prezzi altissimi e quindi andranno ridotti al minimo i disagi conseguenti a questa aggregazione. Il Friuli Venezia Giulia è un territorio piccolo ma molto importante perché sede storica delle assicurazioni generali. Siamo con la nuova segretaria generale regionale, Patrizia Susmel, che è assicurativa e dipendente del gruppo assicurativo e le chiediamo di raccontarci le sfide che le attendono nel nuovo incarico. Grazie, sì, comincio subito da generali. Generali sicuramente è una realtà molto importante per la nostra regione ma anche per tutta l'Italia perché è il terzo gruppo finanziario e anche i primi posti come compagnia assicurativa nel mondo. Dovete pensare che solo a Trieste abbiamo circa 2.500 dipendenti. Le preoccupazioni ci sono, anche molte tra i lavoratori e non solo, proprio per tutti i rumors e le voci di scalata che sono susseguite in questi ultimi mesi, quindi DAXA, poi Allianz, Banca Intesa e adesso potrebbe affacciarsi anche Unicredit. È chiaro che siamo preoccupati essenzialmente per le ricadute che potrebbero esserci a seguito di queste operazioni finanziarie, ricadute quindi sull'occupazione ma anche proprio con tutta una serie di riflessi negativi sul territorio, pensiamo solo al bacino dell'indotto. E quindi devo dire la verità che c'è stata molta attenzione da parte delle istituzioni, dal governo fino alla regione, d'altra parte generali persa quasi ogni anno 350 milioni di tasse alla regione e quindi sicuramente noi ci auspichiamo che il generale rimanga indipendente, internazionale fortemente radicata sul territorio. Però dobbiamo anche dire che il generale ha fatto un piano strategico presentato a Londra all'Investor Day a novembre, per cui sono previste la riduzione dei tagli di circa 200 milioni di euro e questi si dovranno ricavare probabilmente da tagli sul costo del lavoro. Quindi come Wilka siamo molto attenti a vedere in che modo questi tagli avranno le ripercussioni sull'Italia e sulla holding che occupa circa mille persone a Trieste e quindi faremo di tutto perché eventuali ristrutturazioni avvengano sulla scia delle più buone tradizioni sindacali del gruppo e quindi senza soluzioni traumatiche in maniera soft e sostenibile. Nel settore bancario abbiamo seguito in regione con molta attenzione la vicenda dei licenziamenti collettivi di Pobank e abbiamo interpellato anche la governatrice Seracchiani per cercare di ricollocare il personale e quindi diciamo che come sfide noi ci poniamo essenzialmente l'occupazione al primo posto, l'attenzione all'occupazione, la formazione e il proselitismo per crescere sia nei gruppi assicurativi che bancari. Credo che le sfide siano sufficientemente ampie e sfidanti. A Paolo Battisti, segretario generale regionale del Lazio, chiediamo quali sono le sfide che lo attendono in questo nuovo anno dopo la sottoscrizione di un importantissimo accordo nazionale sulle politiche commerciali e l'organizzazione del lavoro. Siamo impegnati in questo momento in regione su tanti fronti. In particolare stiamo chiamando i quadri sindacali dei due grandi gruppi Intesa San Paolo e Unicredito che hanno sottoscritto due accordi importanti pieni anche di elementi innovativi. In particolare in Unicredito stiamo avviando un giro di assemblee su tutto il territorio anche per informare la gente rispetto agli esuberi, alle eccedenze, all'utilizzo del fondo esuberi e anche il nostro patronato in questo momento è decisamente sotto pressione. Stiamo poi seguendo con molta attenzione i colleghi delle banche in crisi che operano nella nostra regione e siamo molto attenti anche a quello che accade nei gruppi che in questo momento stanno vivendo delle fasi di raggruppamento. Ad esempio Banco BPM che ormai rappresenta una dimensione forte in regione con oltre 100 filiali e più di 1200 lavoratori. Ecco devo dire in questo caso che molti lavoratori della periferia, cioè che non vivono nelle realtà dove normalmente vengono fatte le trattative, chiedono al sindacato di essere presente, di coinvolgerli di più per conoscere le problematiche a livello locale e per poter mantenere, ci chiedono ecco, di mantenere le attività lavorative nelle sedi dove oggi loro operano. In questo clima un po' difficile, in questi ultimi giorni sono arrivati due accordi importanti. Uno è il contratto ANIA, finalmente, che prevede per i lavoratori assicurativi molto presenti in regione, noi peraltro abbiamo anche un forte numero di iscritti, un accordo che al di là di mediazioni che ci sono stati mi sembra che corrisponda più o meno alle aspettative che noi avevamo. Da ultimo c'è questo accordo sulle politiche commerciali che è sicuramente una pagina nuova. Ora si tratta di vedere se riusciremo ad applicarlo poi nella realtà perché in questi ultimi anni abbiamo avuto delle forti delusioni su questo tema. Ma credo che la tempistica prevista, le commissioni bilaterali a livello nazionale, a livello anche aziendale e il ruolo che viene riconosciuto al sindacato anche nel gestire i sistemi premianti rappresentano veramente una pagina nuova. Comunque su questo tema sicuramente vigileremo anche in futuro. Con Gino San Marco, segretario generale regionale della Sicilia, parliamo del Sud che purtroppo è enormemente penalizzato dalle molte uscite, anche tramite il Fondo di Solidarietà e dalle inesistenti assunzioni. La Wilka quali politiche attuerà per guardare al futuro con pragmatismo e responsabilità? Ma questo si inquadra nel problema del meridione. Le banche sono figlie di questo Stato, di questa società. Il meridione in generale è abbandonato, la Sicilia si trova in uno Stato di abbandono. Considera che non ci sono più direzioni generali al Sud di Roma. Tutte le grandi banche hanno le loro sedi al Nord, quindi hanno pochissimo interesse a investire o ad assumere in regioni povere come quelle del Sud, dove la disoccupazione giovanile è al 70%, la povertà è diffusa, i servizi non ci sono. Quindi per le banche non sono più un business le regioni del Sud e quindi si allontanano creando ancora di più un deserto nell'economia e nell'occupazione. Grazie per la visione!